Buongiorno, con questo video vi raccontiamo perché DAS, governando il sinistro sin dalla fase di denuncia, riesce ad offrire ai propri clienti un servizio legale d'eccellenza, indirizzandoli verso la migliore soluzione. Quali sono dunque i benefici di una denuncia gestita direttamente da DAS? 1. Il problema legale è affidato a mani sicure e competenti. Il cliente potrà infatti liberarsi dal pensiero del suo problema legale grazie all'affidamento della pratica ad un avvocato del network DAS, accuratamente selezionato dalla compagnia e che, conoscendo le modalità operative di DAS, riesce ad operare con maggiore velocità. 2. Nessun anticipo. Il cliente, quando la pratica è affidata dalla compagnia ad un avvocato DAS, non dovrà anticipare alcuna spesa legale o peritale. 3. Pagamento dell'IVA. Se la persona giuridica assicurata lo desidera e la pratica è affidata ad un avvocato DAS, la compagnia sosterrà le spese legali IVA inclusa. 4. Fase stragiudiziale sempre garantita. La compagnia, in caso di regolarità della pratica affidata ad un avvocato DAS, sosterrà le spese legali sin dalla fase stragiudiziale. Insomma, i benefici di una corretta denuncia sono numerosi e rilevanti, perché l'obiettivo di DAS è quello di offrire ai propri clienti una soluzione legale che soddisfi pienamente le loro esigenze ed aspettative. Per ogni altra informazione sui servizi o i prodotti DAS vi invitiamo a visitare il sito www.das.it. Grazie!